In questa puntata, trasporto per i fragili, sì, unanime dal Consiglio, apertura della Casa Toscana in America, San Francisco. Un volume alla scoperta del fondo Oriana Fallaci. A Sinalunga torna la fiera alla Pieve. Approvata dall'Aula all'unanimità la risoluzione in merito al servizio di trasporto dedicato ai soggetti con fragilità socio-economica, che chiede di rivedere al termine del percorso di sperimentazione i criteri relativi al trasporto, rivolgendo particolare attenzione per i malati oncologici. Il documento, a valle poi di un percorso importante partito dal Consiglio e poi articolato su una serie di audizioni, ha analizzato quello che è stato il tema del trasporto socio di chi ha difficoltà socio-economiche sostanzialmente. Sapete che la Giunta ha fatto una disciplina di come si fa la prescrizione del trasporto sanitario, che è garantito a tutti in tutte le parti della regione toscana. Ovviamente poi sono evidenziati quei casi in cui una persona ha bisogno di essere trasportata perché è una condizione economica o sociale tale da non poter recarsi direttamente da sola nei luoghi di cura. La Giunta aveva fatto già una serie di azioni a partire a dicembre dello scorso anno per venire incontro a queste persone. Noi con questo atto diciamo che vanno allargate le maglie e soprattutto poi nella fase conclusiva che vedrà i comuni attraverso le società della salute o le zone di stretto come soggetti che riorganizzeranno tutti i bisogni legati al trasporto sociale dei nostri cittadini, la necessità di arrivare velocemente a quel momento con risorse nuove, aggiuntive per gli enti locali e con delle linee guida che reghino un livello di omogeneità su tutto il territorio della nostra regione. Direi che tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti perché sono stati accolti dei nostri emendamenti in commissione e quindi è stato fatto un lavoro collegiale, questo lavoro hanno partecipato tutti i gruppi e quindi credo che un'animità sia la giusta conclusione. È diverso da dire quello che abbiamo accettato e che è stato votato dalla soluzione del problema. Ora vedremo, ci saranno degli step di verifica di quanto è stato fatto e detto, certo è che al di là del problema economico e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche, il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male. Cioè gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica e dovrebbero essere privilegiati e comunque dovrebbero avere una via preferenziale. Sì, noi abbiamo chiesto con una mozione ormai diversi mesi fa che la Giunta modificasse una scelta per certi versi scelerata, ovvero quella di introdurre dopo che fino a ottobre 2022 il trasporto sanitario in questa regione era sostanzialmente gratuita, invece dei criteri molto stringenti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista procedimentale. Addirittura si doveva certificare la mancanza del trasporto pubblico oppure piuttosto la mancanza di un parente che entro 50 km da casa ti potesse venire a prendere e portare a fare le chemie o la radioterapia quando si sa che queste terapie hanno naturalmente effetti molto negativi sulle persone e su persone che anche psicologicamente e fisicamente sono già approvate. Quindi abbiamo presentato questa mozione, è stata radicata in terza commissione e all'interno della terza commissione è nata una discussione fatta di audizioni e di un confronto serrato sia su questi criteri sia sulla possibilità di includere anche altri soggetti all'interno del trasporto sanitario in modo particolare anche le persone con disabilità perché nel frattempo gli uffici dopo la riforma della giunta dell'ottobre scorso avevano scritto anche all'associazione del volontariato anticipando che i nuovi criteri sarebbero stati applicati anche per le persone disabili ovvero si passava da una sostanziale gratuità per tutti a pagare praticamente tutti salvo coloro che avevano un'ISEE inferiore a 9.000 euro il che evidentemente parlava da solo. La giunta ha avvarato una sperimentazione che nei primi mesi ci ha dato ragione cioè ha dimostrato che erano pochissime le famiglie che riuscivano ad accedere al nuovo sistema e quindi c'è stato un accordo che si è trasformato in un documento unitario che oggi abbiamo votato e che rispetto a un ulteriore periodo di sperimentazione chiede di fare chiarezza non soltanto sui numeri, sulla qualità del servizio ma anche sui soldi che eventualmente le zone di stretto e le società della salute dovranno mettere in campo per far fronte al trasporto di queste persone. Inaugurata nel cuore della Silicon Valley a San Francisco in America, Casa Toscana è stata finanziata dal Consiglio regionale per sostenere e promuovere le iniziative imprenditoriali toscane è situata presso Innovit Lab di Innovazione promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'Ambasciata d'Italia a Washington e il Consolato Generale a San Francisco gestito con il sostegno dell'Istituto Commercio Estero e dell'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco un'iniziativa strategica del governo per creare occasioni di crescita per l'innovazione italiana promuovere i brand nazionali e le attività delle istituzioni che la Toscana ha saputo cogliere prima tra le regioni Sono davvero orgoglioso di potervi comunicare che da oggi la Toscana è la prima regione ad aprire un outpost a San Francisco un luogo in cui le ragazze e ragazzi che hanno creato una nuova impresa o le piccole e medie imprese toscane potranno avere uno spazio di accelerazione un luogo in cui cercare nuovi mercati un luogo in cui cercare nuovi investitori Noi sappiamo tutti che la Toscana è terra di arte, terra di storia, di cultura, di bellezza ma è anche terra di ingegno e con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio di speranza a chi investe sul futuro Noi siamo al vostro fianco e faremo di tutto perché possiate cogliere le più grandi opportunità dei mercati di tutto il mondo Siamo contentissimi di accogliere oggi ad Innovit l'apertura di Casa Toscana di questo outpost della regione, una regione importantissima all'interno del panorama di innovazione e di cultura del nostro paese negli Stati Uniti vediamo tantissime opportunità di collaborare qui ad Innovit nei prossimi mesi questo è un primo passo e speriamo che altre regioni poi seguiranno in futuro vediamo opportunità sul mondo dell'attrazione investimenti tantissime aziende sono interessate a cluster tecnologici pensiamo al biotech, pensiamo alla robotica e tantissimi altri ma pensiamo anche e soprattutto ai nostri giovani imprenditori e imprenditrici in Toscana che stanno sviluppando tantissime nuove tecnologie e start-up che possano partecipare ai nostri programmi di accelerazione divenuti ora un punto di riferimento qui in Silicon Valley per la comunità italiana Innovit è un progetto del governo italiano che mira stabilire un ponte a lungo termine di collaborazione tra l'ecosistema italiano per l'innovazione e l'ecosistema di San Francisco per l'innovazione l'obiettivo è quello di favorire l'emergere della migliore innovazione italiana e di portarla qui a San Francisco per essere presentata a potenziali investitori e partner che li possano aiutare a crescere La regione toscana è la prima regione italiana a credere in questo progetto e a stabilire qui presso Innovit un proprio outpost permanente che sia focalizzato sull'ecosistema territoriale toscano e che aiuti le imprese della Toscana, siano esse PMI e start-up innovative a venire qui a Silicon Valley e a trarre beneficio dallo scambio con uno degli ecosistemi più innovativi del mondo Il fondo Oriana Fallaci del Consiglio regionale della Toscana già disponibile al pubblico dal 2019 diventa da oggi pienamente accessibile grazie al volume Il cuore in Toscana, il fondo Oriana Fallaci inventario archivistico e catalogo bibliografico l'opera si spiega è frutto del lavoro durato quasi 4 anni che archivio e biblioteca del Consiglio hanno portato avanti insieme per inventariare, catalogare e descrivere e riordinare quasi 2000 documenti che costituiscono il fondo È il destino di questa Italia diceva Virgilio, ha scritto Virgilio che non in Italia perché ancora in Italia non esisteva bisogna morire, qui bisogna morire si riferiva a Roma per salire agli onori Ora non basta essere morti per salire agli onori nel caso di Oriana invece è stato indispensabile ma il curriculum di Oriana, la storia di Oriana avrebbe avuto maggiore dignità anche se fosse stato considerato in Italia e a Firenze in vita anziché aspettare la morte Tutti i viaggi, diceva Cavafis, sono straordinari perché più della meta importa appunto il viaggio in questo caso però la meta è decisiva abbiamo cominciato molti anni fa, 2005-2006 quando Oriana è morta complimenti al presidente attuale che ha chiuso una bella odissea La memoria di Oriana è molto presente specialmente in questi ultimi anni e rappresenta tanto per i suoi lettori è una presenza affettuosa, è costante, è una compagnia in generale diciamo che è una presenza severa è così però anche di esempio e di insegnamento io come tutti quelli che hanno a che fare col suo lavoro direttamente sentiamo molto questa giornata perché l'archivio rappresenta un passo fondamentale per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche in certo senso parte della sua vita perché gli oggetti contenuti nel fondo i suoi scritti personali, le lettere sono evocativi e servono molto a capire come questa donna non solo lavorava ma anche come ragionava e come era fatta quanto era legata alla sua famiglia e a questa città naturalmente e poi finalmente è un modo di lavorare snello e a disposizione di tutti abbiamo volutamente scelto di lasciare qui a Firenze mi odieranno gli altri fondi ma più materiale rispetto alla Boston University e alla fondazione del CS Corriere della Sera perché è parso giusto così perché Firenze è la sua città e il lavoro e gli spazi messi a disposizione dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana sono straordinari ci siamo affidati totalmente a questo team di archivisti straordinario per cui è rassicurante però è anche tutto molto facile la pubblicazione addirittura di un manuale per la consultazione è un ulteriore step che francamente non mi aspettavo ed è ancora di più una gioia penso che Oriana sarebbe stata molto molto contenta fiera quindi non solo adesso c'è una fermata del tram Oriana Fallaci ma un fondo che tutti possono utilizzare siamo finalmente arrivati alla pubblicazione del volume anche se il lavoro di riordino e di catalogazione della biblioteca era già stato completato avevamo già reso accessibili questi materiali a chi ce l'aveva fatto richiesta però a questo punto con questa pubblicazione che tra l'altro è anche in formato digitale sul nostro sito è possibile per chiunque quindi non solo studiosi ma anche curiosi, appassionati amanti della scrittura di Oriana Fallaci vedere che cosa possediamo e fare eventualmente richiesta per consultare questo materiale trovate tutte le indicazioni sui nostri siti ci sono due pagine dedicate una della biblioteca e una del Consiglio e c'è un indirizzo mail comune al quale fa riferimento per qualsiasi informazione anche per ricerche che noi possiamo fare a distanza l'indirizzo è fondofallaci.chiocciolaconsiglio.regione.toscana.it Organizzata ormai da più di un secolo nei primi giorni di ottobre la Fiera della Pieve di Sinalunga nel periodo autunnale diventa il maggiore evento di tutta la Val di Chiana Senese Un evento centenario che valorizza un territorio importante ma che è anche una festa per la Toscana si parla della nostra storia si parla delle nostre tradizioni si parte dalla fatica nel lavoro dei campi per arrivare a messaggi più vicini a noi oggi alla necessità di valorizzare la filiera corta alla necessità di investire in agricoltura in agricoltura di prossimità ecco questo è un momento in cui si parla del nostro passato ma si parla anche del nostro futuro si mantiene insieme le tradizioni con le innovazioni e si fa a Sinalunga uno dei borghi più belli della nostra regione anche quest'anno insomma riproponiamo questa oramai storica edizione quindi non abbiamo il numero perché insomma si perde nei secoli insomma quindi però è una tradizione che va avanti un appuntamento atteso da tutta la comunità che poi negli ultimi anni è diventato anche un evento di promozione del territorio di attrazione anche turistica insomma perché alla fiera si può fare di tutto è diventata dopo le ultime modifiche di questi ultimi anni una delle fiere più estese della Toscana e quindi con quasi 600 banchi tra espositori e venditori e attrazioni per cui insomma questo è un vanto di questa zona e di quella parte della Val di Chiana insomma chiaramente come tante iniziative di questo tipo affondano le loro radici insomma nella fede quindi è una festa religiosa dedicata alla Madonna del Rosario che poi comunque ha significato per quel territorio per decenni, per secoli insomma anche il momento di promozione dell'economia locale in particolar modo dell'economia agricola insomma quindi perché insomma la Val di Chiana è un territorio di agricoltura di eccellenze alimentari e soprattutto a Sinalunga là insomma dove è presente la razza chianina proprio in questo comune è stata selezionata ai fini del 1800 e oggi rappresenta una delle migliori carne più blasonate a livello internazionale quindi è stata selezionata lì nevantiamo questo aspetto anche se poi è elevata in altri vari parti insomma sia della Toscana ma anche d'Italia e forse anche del mondo però è nata là Grazie a tutti